Ciao a tutti, eccomi qui! Come ho promesso arriva subito un altro video. Vi ho fatto aspettare un pochino, ma calcolate che il tempo è sempre tiranno. Oggi di cosa voglio parlarvi? Oggi ho pensato di fare un video proprio basico, diciamo, poi non vengano gli esperti, gli intermedi, chi ha già una base a dirmi Ah, ma queste cose sono ovvie, ma queste cose... Questo è un video base proprio per chi si approccia, per chi è all'inizio, vuole provare qualcosa con l'acquerello. Infatti, cosa vi mostrerò? Vi mostrerò le quattro, diciamo, tecniche proprio base dell'acquerello. Io vi farò vedere, vi farò degli esempi, dove vedrete ogni tecnica a cosa serve, cioè quale effetto potete ottenere con questa tecnica, come potete usarla, quindi per quali soggetti magari è meglio usarla e come si fa, come funziona. Quindi io spero di avervi fatto cosa gradita, vi lascio alla dimostrazione pratica e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ed eccoci alla pratica. Cominciamo dalle tecniche dove il pennello deve essere praticamente asciutto. Allora, le tecniche sono quattro, quelle basilari, diciamo proprio l'ABC dell'acquerello, e sono asciutto su asciutto, bagnato su asciutto, bagnato su bagnato e asciutto su bagnato. La prima tecnica che voglio farvi vedere è sicuramente l'asciutto su asciutto. Cosa vuol dire asciutto su asciutto? Non vuol dire usare il pennello, anche perché se io faccio così, prendiamo un rosso, se io faccio così, vedete il pennello, ovviamente l'acquerello è asciutto, il pennello è asciutto, non succede nulla, proprio zero, trasparente, la scrittura, la pittura trasparente. Quindi devo comunque, si chiama asciutto su asciutto, ma devo comunque inumidire un po' il pennello. Quindi lo metto un attimino giusto nell'acqua, gli do un'inumidita veloce e lo passo su uno straccio, quindi tolgo l'acqua in eccesso. E poi vado a prendere il mio colore. In questo caso continuiamo con il rosso che vi ho fatto vedere. Allora, l'asciutto su asciutto è una tecnica molto particolare, perché fa un effetto che, oddio, non sempre serve, non è che si può fare un dipinto intero con questa tecnica. Mi fa una sorta di, neanche velatura. Comunque mi lascia intravedere la trama del foglio. O è al limite, lo bagno ancora un po'. Sempre lo asciugo un attimo, cioè tolgo perlomeno l'acqua in eccesso, perché il pennello deve essere solamente un po' umido, perché se diventa bagnato l'effetto sparisce, ovviamente. ecco, adesso vedete, era un pochino più bagnato, ho preso più colore e questo è l'effetto che ottengo. Come vedete, è un effetto dove traspare la trama del foglio. Quindi, mi raccomando, non usate l'asciutto su asciutto con fogli che hanno una grana praticamente quasi inesistente, perché l'effetto poi va a perdersi. Serve proprio per dare questi riflessi, questa... E questo, diciamo, si può usare, va molto bene questa tecnica, per esempio, per effetti particolari, come può essere magari la nebbia, come possono essere riflessi, tipo quello che ho fatto all'inizio, poteva essere, fosse stato bianco su un colore scuro, poteva essere una nebbia, oppure può essere un riflesso del sole al tramonto, magari sul mare o su un fiume o sull'acqua. Insomma, per tutti questi effetti particolari. Anche per gli astratti, per gli acquerelli astratti, voglio far vedere la grana, posso anche andare in verticale. Rimetto un po' di colore, però lo devo rinumidire un attimo, perché deve essere proprio appena appena umido, mi raccomando. Potete anche fare, così, delle incrociature. Ecco, adesso sono andata con la punta, l'acqua è scesa sulla punta, quindi, vedete, mi ha fatto... mi ha tolto l'effetto. Quindi deve essere sempre... veramente, qui dovete farci un po' la mano sulla... come si dice... sul grado di acqua. Adesso io ho preso un pennello anche molto grosso, che assorbe tantissima acqua. Però dovete farci un po' la mano sul grado dell'acqua che assorbe il pennello. Questa tecnica funziona come? Funziona bene con carta che ha comunque una grana dal medio in su, quindi non grana lì, non fogli lisci, non grana fine, ma grana dal medio in su, quindi grana grossa, torcion, tutte queste carte. La pennellata ovviamente deve essere molto veloce e leggera, quindi non dovete premere, perché se io premo mi si apre il pennello, vedete come si apre, perché ovviamente è quasi asciutto e viene fuori solo un casino. Poi abbiamo una seconda tecnica, che è l'asciutto su bagnato, quindi non più asciutto su asciutto, ma su bagnato. Cosa significa? Significa che con un pennello pulito lo impregno bene d'acqua e vado a passare il foglio con l'acqua. Lo passo bene, carico bene di acqua, perché fogli per acquerello comunque sono fatti proprio per assorbire tanta acqua, veramente trattengono tantissima acqua. Quando bagnate il foglio per acquerello, magari non andate subito a intervenire, poi aspettate un attimino, di modo che le fibre della carta, specialmente se è una carta in cotone, in questo caso non lo è, comunque quando si usano specialmente le carte in cotone, la carta deve avere il tempo di bagnarsi, di praticamente inumidirsi bene, cioè tutte le fibre devono essere umide. E poi prendiamo sempre un altro pennello, facciamo come prima, con questo è difficile perché assorbe tantissima acqua, quindi lo inumidiamo semplicemente, si può anche toccarlo, si può anche volendo, con le dita, metterci un po', cioè bagnarci le dita, e inumidire un po' il pennello, di modo che cosa succede? Se io inumidisco il pennello in questo modo, si bagnano solo le setole, però non mi fa da serbatoio, quindi non corro il rischio, come qui, che poi mi rilascia l'acqua. Questo è sicuramente un buon sistema per questa tecnica. Prendo, andiamo avanti con lo stesso colore, così vedete bene la differenza. Prendo il mio colore dal godet, quando lo prendo, ovviamente al colore non devo bagnarlo, cioè lo prendo col pennello così com'è. E qui posso fare le mie righe. Adesso facciamo delle specie di onde. Voilà. Vedete che sta pian piano, queste onde si stanno pian piano i bordi frastagliando. Quindi non è più la riga netta che io ho fatto all'inizio, ma diventa una sorta di sfumatura naturale. Naturale nel senso che non l'ho creata io. Qui non l'ho bagnato bene. Ripasso un attimo. Comunque non l'ho bagnato bene. Vedete come si espande. Questo è un modo molto facile per cosa? Per controllare i tratti che fate, per controllare le forme, per controllare dei dettagli che volete fare, ma che volete che non siano netti, ma abbiano un bordo appunto un po' sfumato, un po' nebbioso, un po' questo effetto che non è così tanto esagerato, però riuscite a controllarlo. Sapete che comunque si allarga di tot e quindi riuscite a controllarlo. Su questa tecnica avete un controllo, come su questa dell'asciutto-sosciutto. Mentre vedremo più avanti che ci sono tecniche dove il controllo non l'avete. Qui l'acqua non si sposta. Io faccio il mio tratto, il mio tratto rimane lì, si allarga un pochettino, si sfuma più che altro, si frastaglia, però non va a colare in altre parti perché non c'è acqua sul pennello. Se ci fosse stata acqua sul pennello, l'acqua avrebbe iniziato a andare dove voleva. Adesso andiamo a vedere i bagnati. Allora, i bagnati, c'è la più famosa che è il bagnato su bagnato e questa è famosissima, ma c'è anche il bagnato su asciutto. Cosa vuol dire? Lo facciamo di qua. Allora, il bagnato su asciutto vuol dire che la carta io la lascio asciutta, bagno il mio pennello e questo sistema è un sistema molto facile, diciamo, per controllare le forme e tutto quello che volete creare, i vostri disegni, le vostre figure. Bagno il pennello, in questo caso uso sempre Princeton, lo bagno, lo bagno proprio bene, proprio da acquerello, quindi lo impregno bene d'acqua. Prendo il mio colore e andiamo avanti con questo colore così vedete proprio le differenze perché poi se cambio è un po' più difficile. Prelevo il colore e poi posso, lo facciamo qui sotto magari, posso iniziare a lavorare. Cosa succede? È facile controllare le forme perché il pennello è molto bagnato e vedete diventa come una sorta di, se vogliamo chiamarlo, inchiostro, non lo so io. E anche se carico il pennello, adesso lo carico ancora di più di acqua, proprio lo riempio all'inverosimile e poi lo carico di colore, comunque vedrete che vedete che il colore non si sposta, rimane lì. Quindi è molto facile controllare le forme. Con questo io posso fare qualsiasi cosa e so che rimane dove l'ho fatta. Non è come con un fondo bagnato dove, oh mamma mia, sto sbandando, dove l'acqua sposta comunque il colore, dove l'acqua va a muovere il tutto. anche se è carichissimo d'acqua. Questo, non so se lo vedete, la spirale è veramente carichissima, sia di acqua che di pigmento. E come vedete l'effetto è molto controllabile e molto bello anche. Lascia l'acquerello molto intenso. Diciamo che l'unico neo di questo è che se fate tutta un'opera con questa tecnica, ovviamente risulterà abbastanza statica, abbastanza, come si può dire, dura. Non avrà la morbidezza tipica dell'acquerello perché le forme sono molto delineate, i contorni sono netti, sono delineati, non ci sono sfumature, quindi un dipinto tutto con questo, questa tecnica è un po' improbabile. Però con questa tecnica potete fare anche un'altra cosa ed ora ve la mostro. Bagno di nuovo il mio pennello, prendo del colore e disegno, che ne so, una sorta di di rettangolo. e vedete che dai bordi comunque non esce il colore. Ups! Dai bordi non esce il colore, ma l'aurat fa disastri. e ho appoggiato la mano. Non esce perché? Perché la carta ovviamente è asciutta. con questo si possono fare anche delle sorta di campiture quando il colore deve essere comunque uniforme e circoscritto in una certa area, quindi non deve andare da altre parti. Ok, adesso abbiamo fatto questo. Ora bisogna aspettare che asciuga completamente, deve essere asciutto completamente per farvi vedere il seguito. Nel mentre che asciugava, adesso sembrerebbe quasi completamente asciutto, ho scritto appunto bagnato su asciutto con la freccia sopra e sotto e ho sistemato questo che ho fatto il disastro. Ho detto e ne approfitto per sistemare perché se no poi mi sgridate perché faccio pasticci accidenti a me. Prendiamo l'altro pennello ma così cioè potete usare anche quello che avete usato non è che cambia qualcosa. E cosa andiamo a fare? Una volta che è asciutto ma deve essere veramente bene asciutto adesso io non so se sinceramente è asciutto ma è ancora la carta è ancora umida quindi spero che venga che venga quello che che voglio farvi vedere. Bagnate di nuovo il pennello prendete un altro colore e cosa fate? Fate una velatura allora io prendo un giallo e sempre con la carta asciutta anche se questa è un po' umida però e il pennello molto bagnato comunque molto o meno a dipendenza di come vi piace cosa faccio? Vado a passare sopra e vedete che diventa una sovrapposizione i colori si mescolano e diventa una sorta di sovrapposizione se io avessi tenuto il pennello un pochino meno bagnato usiamo l'altro e ve lo faccio vedere qui prendiamo un verde cosa succede? Si sovrappongono i colori si sovrappongono e fanno appunto come una velatura questo risultato è sicuramente migliore del mescolare i colori direttamente sulla tavolozza se io avessi mescolato questo rosso con il giallo sulla tavolozza difficilmente sarei riuscita a fare questa ad ottenere questo colore a fare questa sorta di velatura senza cosa per il verde con questo rosso vedete che qui rimane comunque la trasparenza in questi punti rimane la trasparenza e anche qui si vede qui si vede il verde perché non c'era niente era fuori dalla zona rossa e anche qui si vede una trasparenza in questo modo potete fare anche delle belle sfumature perché vedete qua per esempio il giallo poi va all'arancio fa una bella sfumatura in questo caso non era perfettamente asciutto infatti avete visto che si è subito mescolato velocemente in realtà crea una velatura un pochino più leggera però quando poi asciuga poi ve lo faccio vedere quando sarà finito quando sarà asciutto vedrete proprio questa sorta di appunto sovrapposizione vedete proprio le sovrapposizioni quando usate questo sistema mi raccomando l'ideale è non usare più di due tre sovrapposizioni perché alla fine vi diventa si annullano e diventa una sorta di fango e un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi per questa tecnica usate solo colori trasparenti come faccio a sapere se un colore è trasparente o no sulla cartina d'ego d'e oppure sul tubetto dei vostri acquarelli normalmente c'è scritto se un colore è trasparente il grado di resistenza alla luce insomma tutte queste informazioni che sono importanti uno non le guarda mai ma sono molto importanti stessa cosa c'è scritta sugli acrilici sul colore ad olio insomma su ogni tipo di pittura seria il grado di trasparenza di solito viene indicato con un quadrato così c'è un quadratino poi dipende dalla casa della marca comunque un quadratino così vuol dire trasparenza cioè colore completamente trasparente se c'è una riga così e questa metà è colorato vuol dire trasparenza media quando il quadrato è tutto colorato in questa maniera vuol dire coprenza massima e invece per la resistenza alla luce normalmente viene indicata con delle stelline tipo asterischi così e sono sempre mi sembra tre dopo anche lì dipende dalla casa comunque uno è poca resistenza alla luce due media resistenza alla luce tre grado massimo di resistenza alla luce il giallo che io ho usato è un giallo abbastanza coprente avete visto che anche se sta asciugando non si vede più la linea del rosso mentre questo verde è un verde semi trasparente infatti io vedo ancora la riga poi ve lo faccio vedere bene quando è asciutto e passiamo all'ultima tecnica la più famosa la più conosciuta la più amata la più usata è la più difficile sicuramente da usare perché qui non avete nessun controllo ma l'acquerello è bello per quello a noi piace l'acquerello per questo motivo perché non si può controllare non possiamo per domarlo dobbiamo veramente sudare 27 camice in questo caso cosa faccio bagno tutta la mia zona in maniera molto 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 intensa vedete che carico bene d'acqua fate sempre attenzione che l'acqua sia uniforme sia in tutti i punti dove volete ovviamente usare questa tecnica in un dipinto potete anche dire ok io voglio il cielo bagnato su bagnato ma poi il resto del disegno che ho già accennato a matita lo voglio con un'altra tecnica quindi cosa fate non mi bagnate tutto il foglio ma mi bagnate solamente la zona quindi il cielo girando intorno che ne so alle foglie se c'è un albero o a quel che c'è bagnate bene e ricordatevi sempre che l'acquarello funziona un po' come vasi comunicanti nel senso dove c'è più acqua se io metto una chiazza d'acqua qui grossa cioè con il pennello carichissimo d'acqua l'appoggio qui e ho una zona qui umida cosa succede qui c'è più acqua qui ce n'è meno l'acqua che io ho messo qui quindi l'acqua con il mio colore tenderà a spostarsi verso la parte dove c'è meno acqua proprio la teoria dei vasi comunicanti penso più o meno la sapete tutti come funzionano l'acquarello alla fine funziona così e questa è una buona cosa da sapere perché se ne parla molto poco io raramente ho sentito persone spiegare questa cosa o accennare a questa cosa ok la carta è bella bagnata bella umida e poi cosa faccio prendo il mio pennello dove metterò il colore e ovviamente quando usate i pennelli d'acquarello in generale fate sempre attenzione se li immergete tutti se vi restano gocce sulla ghiera asciugatela adesso io l'avevo messo nell'acqua per pulirlo tutto l'avevo immerso tutto però normalmente cosa si fa si immerge la punta così non c'è bisogno di buttare tutto il pennello dentro perché il pennello assorbe andiamo a prendere il colore e iniziamo ecco voilà vedete come corre il colore qui proprio il colore è incontrollabile cioè è impossibile che voi riusciate a controllarlo perché lui se ne va dove vuole se io solo metto un puntino qua guardate come diventa questo ha un effetto dire meraviglioso e dire poco infatti la tecnica bagnato su bagnato è sicuramente una delle più difficili nell'acquerello perché veramente c'è pochissimo controllo e bisogna avere una bel po' di esperienza per intuire perlomeno dove dove andrà a finire il il colore che mettete ma però è bellissima cioè dà veramente tantissima soddisfazione io adesso prendo un po' di questo blu lo appoggio all'interno anche e lui comunque si muove cioè guardate quanto è bello comunque l'effetto adesso sto facendo cose a caso non è un disegno non è nulla di che però quanto è bello il bello è proprio questo certe volte si dice magari con questa tecnica uno dice oh cavoli mi è andato il colore lì qui non è preciso qui è impossibile essere precisi ovviamente perché dovremmo saper prevedere cosa fa l'acqua cosa fa il colore ed è impossibile però il bello è anche quello cioè anche lasciarsi certe volte sorprendere da quello che può uscire da quello che può uscire da un da un acquerello poi ovviamente dipende sempre dal soggetto che state facendo e queste ovviamente sono tutte cose che dovete tenere in considerazione cioè se sto facendo un ritratto che deve essere preciso non posso ovviamente usare questa tecnica perché sarebbe un suicidio guardate che bello poi aspettate un attimo il colore comunque continua a spostarsi continua a impregnarsi cioè le fibre lo attraggono vedete io appoggio semplicemente la punta e lui va va per i fatti suoi qui avevo messo meno acqua e quindi l'effetto comunque va un pochino a calare con poco voglio dire adesso stavo semplicemente giocando per farvi vedere come diventa guardate questa che da quella dove ho messo meno acqua come comunque si è già si è già allargata si è già frastagliata tantissimo aspettate sempre abbiate il tempo di lasciarlo lavorare anche perché poi una volta asciutto sarà ancora un'altra cosa allora voi lo vedete un po' più scuro mi sa scusate mi ero tolata la mattita comunque la parte questa voi vedete qui ancora il segno del colore rosso che ho fatto sotto del rettangolo perché il verde come vi ho detto è un verde trasparente quindi ha creato questo effetto dal vivo è tutta un'altra cosa vedete anche questo che sta iniziando ad asciugare guardate il nero come si è come si è espanso in questa zona per esempio dove era tanto bagnato questa tecnica bagnato su bagnato non è che serve solo per l'astratto non è che potete fare solo astratti io sono una fan del bagnato su bagnato la uso per tante cose perché bagnando pezzettino per pezzettino riesco a ottenere delle sfumature degli effetti particolari su qualsiasi soggetto tutte queste tecniche diciamo che l'asciutto sosciutto da solo non ha senso non ha proprio senso di esistere bocciato morto l'asciutto su bagnato da solo si potrebbe anche si si potrebbe fare qualcosa un'opera intera il bagnato su asciutto da solo ha poco senso perché perché diventa troppo punto statico come vi dicevo il bagnato su bagnato da solo ha senso ha un senso un senso ce l'ha voglio trovare un senso questo un senso ce l'ha però queste quattro tecniche unite cioè per esempio il bagnato su bagnato una volta che è asciutto io potrò intervenire con cosa il bagnato su asciutto l'hasciutto su asciutto idem voglio dare un effetto facciamo finta che questo sia un tramonto o un paesaggio voglio dare un effetto nebbia ok aspetto che asciuga e lo passo come vi ho detto prima veloce l'hasciutto su bagnato questo si potrebbe usare anche qui però alla fine diciamo essendo già un bagnato su bagnato va a finire che non si capisce qual è l'asciutto su bagnato e qual è cioè diventano un po' la stessa cosa ecco ha un po' poco senso comunque queste tecniche usatele insieme provate a sperimentare provate a veramente lavorare con l'acquerello provate diverse tecniche appunto provate diversi modi e poi provate pian pianino a integrarli uno con l'altro bene adesso torno da voi per i saluti ciao ciao et voilà rieccoci qua la dimostrazione è finita io spero che sia stata chiara che di essere stata appunto comprensibile perché naturalmente per me sono cose ovvie e quindi certe volte quando le devo spiegare non sempre magari però è una cosa ovvia e magari dimentico di spiegare un passaggio o di dire qualcosa quindi mi raccomando se qualcosa non è chiaro non avete capito bene avete un dubbio non abbiate paura di dirlo lasciatemelo qui sotto nei commenti magari non rispondo subito questo lo dico sempre però comunque rispondo so che la maggior parte grazie a dio ama sentirmi parlare vorrebbe che io facessi video lunghi giorni ore mesi anni poi però c'è una piccola percentuale di persone che continua a parli troppo e vai al sodo e non ti dilungare allora il canale è il mio decido io se voglio dilungarmi mi dilungo punto stop se poi non volete ascoltare ce ne sono tanti altri canali lo dico sempre canali ce ne sono tantissimi se non vi piace nessuno vi obbliga a guardare me e soprattutto ad ascoltare me poi è vero che sono logorroica lo so io per prima lo sa tutto il mondo lo sanno tutti e come ero logorroica 15 anni fa tra l'altro l'altro giorno ho ricevuto un commento su un video degli ultimi che ho fatto devo ancora rispondere di qualcuno una ragazza mi sembra che mi dice mamma mia come sei cambiata e sì sono cambiata ma ragazzi il tempo passa cioè non passerà mica solo per me non penso che voi siate rimasti uguali caspita sono passati veramente tantissimi anni io penso tipo 15 10 tutti insomma 10 anni fa ne avevo 34 oggi ne ho 44 44 gatti oggi insomma 44 gatti non sembra ma pesano anche voi giovincelli che magari dite guarda com'è invecchiata Laura Art ci arriverete anche voi non preoccupatevi che gira tutto la ruota gira gira per tutti l'importante l'importante è lo spirito l'importante è il io dico sempre l'importante è l'essenza quello che uno ha dentro bene ho divagato un attimo come al mio solito comunque vi mando un bacione grandissimo se vi è piaciuto il video lasciatemi un like grazie so che me li lasciate sempre però lasciatemi un like così il video sale nell'algoritmo di youtube e il canale riprende la vita che aveva quando l'ho creato e in più io sono incentivata vedendo questi bei risultati a fare più video quindi se volete più video lasciatemi un like iscrivetevi se non siete ancora iscritti attivate la campanella di qua di là non lo so mai dov'è così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica niente se avete commenti lasciate qui sotto tutto il materiale che uso i link per gli acquisti li trovate qui nel box info trovate tutti i link di tutti i prodotti che uso nel video grazie di cuore per l'ascolto e ci vediamo a brevissimo mi sa mi sa mi sa ma non sono sicura ma però mi sa di sì con il video sugli acqua brick della creta color che ragazzi li ho provati sono una bomba una cosa che potete farci di tutto con quegli acqua brick quindi non vi resta che seguirmi ciao a tutti un bacione ciao ciao